La cucina polacca è molto particolare, si tratta di una cucina tradizionalmente povera, quindi a base di minestre e verdure, nonché carne bianca. Potreste scoprire i piroghi, cioè i tradizionali ravioli che sono il piatto nazionale della cucina polacca e che possono avere tantissimi ripieni, carne di maiale, formaggio, patate, funghi, verse, ma anche lo stinco di maiale oppure il piatto tipico colacchi, a base in voltine diversa con riso e con carne.